Sicuramente è una grande occasione per il nostro piccolo paese, soprattutto per i paesi territoriali, di accrescere le nostre infrastrutture e tutto, quindi credo, come anche appassionato di volo, sicuramente. È una grande occasione, infatti siamo qui, precisi, alle 11, e io e il mio amico, per vedere questo grandissimo evento che credo sarà la storia del nostro territorio. Con tutti i lavori che stanno facendo credo che creeranno l'opportunità di lavoro, soprattutto per noi ragazzi. Speriamo di trovarlo anche. Io avevo fretta perché qua siamo, sono più in là che qua. Vorrei almeno farmi un volo, visto che ho fatto tanti voli, nella mia vita volevo fare l'ultimo. Per noi, per la maggior parte di noi che abitiamo qua, siamo nati qua, abbiamo vissuto la maggior parte della nostra vita qua, il nostro timore che poteva essere un'ennesima incompiuta. Invece, grazie a Dio, con l'interesse dei politici locali e della buona amministrazione, anche ragionale, le cose stanno andando a pieno carico, insomma, la cosa va andando bene. Non siamo più che soddisfattissimi di questa situazione, ci fa tanto piacere. È un'opera pubblica, bellissima, grandissima. Qualcuno ha dovuto sopperire allo es proprio, quindi deve cambiare abitazione, deve cambiare il posto dove ha vissuto per la vita. Questo ci dispiace un poco, però diciamo che il pregio è maggiore del difetto. Quindi per noi va benissimo. Speriamo che tutto vada bene nel più breve tempo possibile.